Da una parte avevamo un gruppo di parlamentari del centro-destra, dall'altra un gruppo di parlamentari del centro-sinistra, un rappresentante del mondo ambientalista, in fattispecie l'engambiente e sono emersi punti di convergenza, ma tanti punti di divergenza, perché poi si parte di discutere sul tema automotive, c'è qualcuno che poi sposta il tema sull'immigrazione, sposta il tema sul riscaldamento globale dal punto di vista di altre cause e quindi si va un po' fuori tema. L'importante era rimanere nell'alvio, ci siamo riusciti, è stato un dibattito costruttivo dove la filiera ha esposto ai parlamentari europei i propri desiderata, le proprie posizioni, mi sembra che sia una posizione abbastanza comune da parte della filiera automotive rispetto a quella politica, ci sarà una bella battaglia. Sta riconosciuta la valenza del nostro claim, questo mi fa molto piacere e soprattutto da parte delle aziende, ma anche da parte della filiera. La politica fa sempre fatica perché poi prevalgono interessi di partito, prevalgono schiaramenti vari, non è facile, non è facile, molta ideologia anche. Il nostro fine era quello di portare tutte le, è quello, rimane quello, di fare in modo che tutte le soluzioni green disponibili vadano in direzione dello stesso obiettivo, anche perché, lo ripeto, lo ripeterò ancora per secoli, è il mercato che decide, è il mercato che ha l'ultima parola, è il consumatore che ha l'ultima parola, quindi no alle imposizioni, questo lo ribadisco e poi guardare alle esigenze della popolazione, anche perché stiamo vivendo un periodo veramente, veramente terribile dal punto di vista geopolitico, siamo sull'orlo di una guerra, di una grossa guerra e quindi attenzione a come ci si muove, ai soldi che si stanziano e guardare quindi dell'interesse comune per evitare i voli pindarici. La seconda volta che Forum Automotive organizza un dibattito sul tema della disabilità, la prima volta l'abbiamo fatto qualche anno fa, prima del Covid, guardando a come il mondo automotive è riuscito a eliminare le barriere, una persona disabile adesso riesce a guidare una macchina, riesce a salire su una moto, riesce a spostarsi e viene anche agevolato dalle nuove tecnologie di salita e discesa, cosa che fino a un po' di anni fa non c'erano. Oggi invece abbiamo proposto un risvolto particolare, ovvero sia come il settore automotive attraverso le case automobilistiche, le associazioni, gli appassionati, l'automobile club d'Italia eccetera, rendono possibili sogni possibili, ovvero sia una persona è diventata disabile per un incidente, per una malattia e amava sciare, amava così giocare a pallone magari e adesso per questi problemi che ha non può più farlo, beh non può più farlo sulla carta perché ci sono diciamo delle associazioni che permettono di risalire sullo slittino, di sciare, questo grazie al programma semplicemente messo a punto da BMW che abbiamo premiato perché è un contenitore di tante tante iniziative e questo riconoscimento che abbiamo dato al Presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre per specialmente, il riconoscimento va specialmente, è stato ritirato dal Presidente Di Silvestre e da condividere con tutti quanti guardano al prossimo ma in maniera fattiva e concreta. Ho già in mente le tematiche, me le tengo per me in questo momento e poi vedremo ovviamente di organizzare un dibattito politico per il dopo elezioni e sicuramente vedremo quali programmi ci prospetterà la nuova maggioranza a Bruxelles.